Anticipazioni tempesta d'amore. Mercoledì, 9 dicembre 2020. Dato che Werner e Robert non vogliono raccontare la verità, Valentina scoppia a piangere e si rifugia nella stalla. Non riesce a credere ai suoi occhi quando Fabienne apre la porta. Poco dopo, la ragazza vuole parlare di nuovo con il padre. Giunta al Furstenhof, sente Christophe parlare della separazione dei suoi genitori. Natasha si è recata ad Hamburgo per sottoporsi a un'operazione. Al telefono, Michael assicura a sua moglie che non parlerà a nessuno del suo intervento. Poco dopo, quando sta per lasciare l'appartamento, Fabienne si palesa al suo cospetto. Christophe scopre che, la catena, Top Comfort è sull'orlo del fallimento. Dopo l'infortunio di Nero, Franzi decide di sostenere Tim fino a quando il cavallo non si sarà ripreso. Ed interviene, coraggiosamente, in difesa di Steffen, quando il Dejen attacca il suo rivale. Vanessa è tutt'altro che felice quando il suo ex allenatore Urs Bauer e manager si presenta all'improvviso in hotel. Grazie a tutti.